Cioè questa parte del sole, questa è l'immagine del sole spostata un pochettino in avanti. Quindi si può vedere a occhio qual è la differenza col solstizio del 1721. Il giorno del solstizio di estate, qui si poteva vedere che comunque anche quel giorno lì l'immagine arrivava qua. Era due centimetri più avanti. Perché quella è l'immagine del solstizio dell'estate del 1721. E questa? E questa è lo stesso. Perché il sole cammina e prima passava di là e adesso passa qua e poi passa qua e poi passa qua. È un progredire dell'immagine solare. Allora ti dicevo la differenza tra il giorno solare e medio.